... ... I protagonisti di questa sera sono Emanuele De Capiti, pittore e scrittore, attore e attore, attore e scrittore, poi? ... ... ... ... ... ... che vi presenterà il suo gruppo e poi andranno avanti con lo spettacolo che è anche loro Marco Scaricci Mario Mario Scorzei da parola Marco Scaricci per tutto vi ringrazio che il 30-15 in questo spettacolo c'è pure un spettacolo, cioè un diato chiamiamolo così sono abituato alla difficoltà della vita nel senso che facendo un teatro fatto di espressione poetica è molto difficile in questi giorni ispirare a campare quindi adesso non voglio introdurre Pasolini come le carte dell'universitario le conferenze che si vedono nelle scuole eccetera quindi didatticamente perché credo che questo spettacolo così come abbiamo pensato racchiuda tutti i temi di Pasolini dal dialetto all'interrogazione sociale e del resto mi piace in questa introduzione parlare del mio incontro con Pasolini un incontro violento, forte io avevo 16 anni adesso ho 31 anni quando ho 16 anni e da qua mi sono reso conto che mancava qualcosa negli studi che stavo facendo a scuola mancavano degli esempi e se c'erano degli esempi dovevo ricorrere a Sofogli a Omero a la filosofia classica eccetera ma mi mancava un maestro un padre degli anni 50 60 vicino a me e io personalmente l'ho trovato in due persone purtroppo il mio caro amico Giovanni Franzoni che è scomparso a luglio scorso e soprattutto Pierpaolo Pasolini tra l'altro ho scoperto che i due erano anche amici di lui l'ultimo conto Franzoni è molto 90 anni e cosa mi ha colpito di Pasolini mi ha colpito la solitudine è una solitudine politica poetica letteraria come disse il filosofo Aristotele come soffiorità quindi questa solitudine ha attraversato hanno avviso completamente gli ultimi 50 60 anni e 20 anni fino a spiacciare il pensiero a ridurre sia in modo liquido sia in modo assolutamente inutile ogni espressione artistica se non una solitudine completamente rinchiusa almeno questo è quello che io vedo e vivo nella mia vita perché noi in questo spettacolo usiamo molto il dialetto per il semplice motivo che quando Pasolini tornò a Casanza nel suo paesino non ritrovò più la tradizione non ritrovò più quello che aveva lasciato più di infanzia ma ritrovò il nuovo modello la totale uguaglianza e semitudine di costruzione lui non distingueva più appunto un cittadino da uno di Casanza da un petto di un bambino in un paese e questo per lui è stata una contena devastazione tanto che in lettere interanee negli ultimi scritti nel 75 c'è appunto i giovani infelici dove traccia una linea essenziale dell'umanità che possiamo vedere più e non c'è Mese che non ricordi se non è la mia immaginazione ovviamente la morte dei vassoli non ricordi scusate la mia immaginazione ovviamente la sera grande della morte dei vassoli ecco per me quella morte lì continua a dare riforza quello che faccio continua a dare riforza e credo continui a dare riforza a persone un po' più sensibili che si rivedono magari possono vivere un po' di speranza per tutti gli scritti non è stato il più caso ho preferito fare qualsiasi lavoro da un cantiere di curatori tutti non staccati da questo teatro perché ho rinunciato a fiction televisiva film e tutto ciò che mi ha stato proposto come semplici attori per concentrarmi quindi ho detto non soldi non gloria ma che paura io grazie per questo apprezzare grazie tra l'altro Giovanni Sanzoni che stavo dicendo prima il giorno che 1973 Sanzoni è stato cacciato dalla Pasipica di San Paolo per Roma quindi non era il tuo abate quel giorno è coinciso tra le altre cose con la prefazione che qua Sanzoni stava scrivendo la Sanzoni tra gli uomini quindi questa coincidenza è molto importante Giovanni Sanzoni incontra quando vi è spredato ma lo guardiamo anche un po' di attenzione di San Paolo il suo voce dire da a me mi sta a sentire ma di non per che le storie e i fatti di la vente poi le figlie ero in da stati in la luce si sono riusciati con la testa in blu slaviti salvati non parlano più a costruire maesi e città votare dai morti andare più là pianare montagne riempire il mar e chi non lo vuole aiutarlo a morire e quanto ha cantito dalla mia città chi è vivo lo deve chi è vivo lo sa ragazzo gentile qui davanti a me mi sta a sentire ma dimmi per te per te Grazie